Ehi, sono qui, sono dentro la casa domotica E tu chi sei? Sono il tecnico della casa domotica Casa domotica? Che cos'è? E' molto semplice Prendiamo una casa, aggiungiamo delle stanze Quante? E' una villa? Assolutamente no, una casa normale come tante altre Ti piacerebbe vivere nel comfort, risparmiando energia e in totale sicurezza? Certo, ma come funziona? Chiediamolo direttamente a lei Immaginate di essere fuori Al lavoro, a far la spesa, in palestra o in qualunque altro posto E vi viene il dubbio di non aver spento tutte le luci o chiuso le tapparelle Con il vostro smartphone o tablet potete comandare a distanza Lo spegnimento delle luci e la chiusura delle tapparelle Quando siete soli in casa potete far sì che ci siano luce e temperatura ideali nella stanza in cui vi trovate E contemporaneamente negli altri ambienti si spengono le luci e si abbassi la temperatura Se vi spostate in un altro locale della casa, luce e caldo vi seguiranno Per poi spegnersi e abbassarsi nella stanza in cui vi trovavate Limitando di molto il consumo E la sicurezza? Sempre dal tablet o dallo smartphone potete controllare le stanze o l'esterno attraverso microcamere E con lo scenario uscita ogni casa si mette in sicurezza da sola Allora, che ne pensi? Questo è molto altro ancora Potrai vedere e toccare con mano qui, al TRIELAB Mi sembra bellissimo Non vedo l'ora di entrare In una casa domotica è possibile integrare tra loro molte cose Illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, allarmi anti-intrusione, radio, tv, musica, video, irrigazione Effetto presenza, i tapparelli, finestre, porte basculanti, tank da sole E ancora il controllo a distanza tramite video in tv